Ciao Tommaso, eccoci qui alla nostra lezione del mercoledì sull'architettura. Noi oggi parleremo di un architetto, l'Ecole Boussier, che ha lasciato un contributo molto importante all'architettura del 1900. Allora, trattandosi ecco di un argomento molto complesso, chiaramente tu non dovrai riassumere tutto il testo che vedi allegato. Noi oggi parleremo della vita di Corbusier fino ai primi anni della sua vita. Quindi come ci organizzeremo? Semplicemente come le altre volte faremo un riassunto in inglese, parlando ecco dei momenti principali che hanno caratterizzato la vita dell'architetto, dopodiché ti offrerò il solito supporto di traduzione in lingua italiana. Ti chiederei alla fine di fare il solito riassunto di 50 parole, tenendo chiaramente conto delle regole che abbiamo spiegato ed affrontato nel corso dell'anno scolastico. Noi cominciamo e ti auguro un buon lavoro. So, Le Corbusier, who was Le Corbusier? I have just told you, Le Corbusier was one of the most important architects in the story of the heart. So, Le Corbusier wasn't his real name. His real name was Charles Edward General Gris. He was born in Switzerland and he was born on October 6th in 1887. When did he change his name? He changed his name in 1917 when he moved to Paris. So, he used his real name for a very long period. So, why was Le Corbusier so important architect in the history of art? He was so important because he worked with elemental geometric forms. And his forms were clear. And he created some important buildings. So, his family followed the Calvinism religion. His family loved the heart and his father was a painter. His father worked for the watch industry. His mother was a piano teacher. At the age of 13, Le Corbusier left primary school and he started to happen at the quality at La Chaux-de-Font. In this period of his life, he learned the art of watch phases. And he followed the teaching of his father. Later, he had a teacher. His teacher's name was L'Emplettenier. What did he teach him? So, thanks to his teacher, Le Corbusier studied art history and he studied naturalist aesthetics of Art Nouveau. So, he left the work of his father and he studied art decoration because he wanted to become a painter. So, in 1907, when he was 20 years old, he designed his first house. He visited Italy, Vienna, Paris, and during his travels around the world, he met some important architects. For example, parents and, for example, parents. So, now let's speak about his career. So, he made some important discoveries. So, he discovered the importance between the contracts of large-quality space and individual spaces. This reception was important for the creation of his residential buildings. And now, he discovered the geomelting floor and the use of the landscape. Then, in 1912, Hurtag, Toulas, showed the font and there he opened his practice. He designed a series of villas and he started to use his terrorism. He designed two, he designed in this period, an important prefabricated housing with open spaces, with poles, with fingers, with fingers, exterior and interior walls, from the usual structural constraints. So, and later, he started to travel around the world, but we are speaking about his career around the world next lesson. Ok? Allora, questo è il primo periodo della vita di Corbusier. Adesso noi facciamo un riassunto in italiano e ci preoccuperemo, ecco, di parlare del suo viaggio a Parigi e in altre parti del mondo la prossima volta. Quindi, cerchiamo di dividere l'argomento perché può risultare complesso. Allora, il Corbusier non era il suo nome reale perché lui si chiamava Charles Edward Gennard Gris. È nato in Svizzera, è nato il 6 ottobre del 1887 e ha assunto questo soprannome nel 1917, quando ha affrontato il suo primo viaggio a Parigi. Allora, noi per che cosa ricordiamo questo architetto? Lo ricordiamo perché ha offerto un importante contributo all'architettura del 1900. Attraverso l'uso di forme geometriche, Corbusier diffonde la sua idea di architettura. La sua famiglia era composta dal padre che era un pittore e lavorava nell'industria dell'orologi e la madre, invece, era un insegnante di piano. La sua famiglia era di religione calvinista e amava l'arte che ha trasmesso al figlio. A 13 anni lascia la scuola per frequentare la scuola delle arti decorative, dove lui voleva seguire l'insegnamento del padre e quindi applicarsi nell'industria degli orologi. Qui lui inizia ad avere un maestro. Il suo maestro gli insegna l'arte, la storia, gli insegna a disegnare e gli insegna l'aspetto naturale di chi seguiva dei seguaci dell'art nouveau. Avendo quindi avuto un approccio molto importante con il suo maestro, Le Corbusier quindi proseguì lo studio nell'arte e nella decorazione perché voleva diventare un pittore e quindi studiare architettura e abbandonò chiaramente le orme del padre. Nel 1907, all'età di vent'anni, lui progetta la sua prima casa, fa dei viaggi importanti nel mondo, quindi visita l'Italia, Vienna, Monaco e Parigi, dove incontra architetti importanti come Auguste Perret e Peter Behrens, con cui inizia ecco una sorta di collaborazione. Parliamo ecco dei suoi primi anni. Allora, lui ha fatto delle scoperte importanti. Lui ha capito l'importanza che c'è tra spazi larghi collettivi e invece spazi comportamentali e individuali ed è stata proprio la base della teoria che lui ha utilizzato per la progettazione dei suoi edifici residenziali. Lui inoltre ha scoperto anche l'uso delle forme geometriche e l'uso del paesaggio. Quindi sono queste le scoperte principali di questo architetto. Forme geometriche, uso del paesaggio, rapporto tra spazi individuali e spazi collettivi. Tornò nel 1912 nella sua città, cominciò ecco a specializzarsi proprio nella architettura utilizzando le sue teorie. e iniziò soprattutto alla progettazione di prefabbricati dopo che la prima guerra mondiale era terminata. Abbiamo dei piani con spazi aperti e abbiamo gli interni e gli esterni che lui progetta seguendo dei principi architettonici che aveva coltivato durante la sua carriera architettonica. Questo sistema lo accompagnò per i prossimi dieci anni. Adesso ti chiederei di fare un riassunto quindi solo della prima pagina. Ringrazio e ti auguro una buona giornata. Ciao!